Reas, Lorenzo Alessi, Nicea degli Dei, Leonardo Rostano, Maier, Tegli Giannoni, Midolo del Nord, Stefano Baldi, in seconda fila, Otto di Piaggia, Francesco Fronzoni, non partenti, Millibar e Lovelock Rock. Stacco. Olympic Nord, fro attaccato da Nicea degli Dei. Poi Otto di Piaggia, Light of Station in terza Reas, quindi Maier, idolo del Nord, in quanto al gruppo Nicea degli Dei, in vantaggio, 200 iniziali in 13,3, Olympic Nord, fro attaccato da Otto di Piaggia. Insiste in terza Reas, che infine scavalca a Nicea degli Dei e punta sulla battistrada a Nicea degli Dei, 28,5, il quarto iniziale, Reas va ad incalzare Nicea all'imbocco della retta opposta delle tribune. Nicea all'accordo, Reas all'esterno, Olympic allo steccato, all'argo, Obsession. Reas sfila sulla condiscendente Nicea quando siamo in prossimità del passaggio di metà gara, 800 iniziali passati in 58,5. Reas al comando, Nicea di rincalzo, all'argo, Maier, poi Olympic Nord, fro all'esterno, idolo del Nord, ancora 8 di Piaggia, all'argo, Obsession, veicolo, un chilometro, se ne va in 1,13,5. Siamo a metà della piegata finale, con Reas al comando, all'argo, Maier, in corda si mantiene Nicea, all'esterno, idolo. Mancano 400 metri alla conclusione, con in vantaggio sempre Oreas, all'argo, Maier, sposta in terza, Nicea, per Varchi, Olympic Nord, fro che non ha spazio, passa a centropista Nicea degli Dei, Nicea degli Dei che passa agevolmente, chiude forte Olympic Nord, fro che guadagna veramente tanto nel finale. Il palo si avvicina e sul palo è ancora Nicea, su Olympic, terzo posto per Maier, su idolo del Nord, Nicea degli Dei e Leonardo Vastano. Il training di Nicola Merola, i colori sono del signor Leonardo Vastano, 9,43. La quota al totalizzatore, la media intorno all'1,13,7,13,8. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. op o la spunta. Grazie a tutti.